Gesù è la pienezza della legge e giudica con misericordia. Lo ha rimarcato Papa Francesco celebrando la Messa a Santa Marta. Troppo spesso, ancora oggi, i nostri vizi giudicano la gente con malvagità, senza lasciare che la misericordia entri nel nostro cuore. Un cuore che, soffocato dal peccato, diviene sempre più corrotto, tanto da arrivare a credere di fare bene le cose. La parola di Dio che la Chiesa offre oggi alla nostra meditazione ha permesso così al Pontefice di riflettere su quattro aspetti, l'innocenza e il peccato, la corruzione e la legge. Sempre sono stati nel mondo giudici corrotti, anche oggi. In tutte le parti del mondo ce ne sono. E questi, perché viene la corruzione in una persona? Perché una cosa è il peccato. Io, peccato, scivolo, sono infedele a Dio, ma poi cerco di non fare di più o cerco di sistemarmi col Signore o almeno so che non sta bene. Ma la corruzione è quando il peccato entra, 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 entra nella tua coscienza e non ti lascia posto neppure per l'area. Un po' di dom trying Grazie a tutti